Grazie, Dottore Bolognese. Grazie, Dottore Bolognese. E per avere conoscenza della patologia bisogna operare tanti, avere tanti casi fatti. Lei ha detto, se non vale errato, che 20 casi all'anno mettono ancora il neurochirurgo nella posizione di quello che ha una conoscenza scarsa, tanto da avere fino al 48% di casi limite di perdita di liquore. No, una corazione. Il 20 casi all'anno è il limite che è stato convenzionalmente scelto come il limite per definire gli esperti nazionali negli Stati Uniti. La maggior parte dei neurochirurghi non esperti che hanno un'incidenza fino al 48% fanno dai 2 ai 3 interventi all'anno. C'è quindi una cosa che è fondamentale, che ci siano dei centri, che ci siano dei punti, degli ospedali, delle aree, dove si vogliono fare questi interventi, si vogliono fare questi studi, si vogliono approfondire quello che è il problema di Chiari e Siringomeria. Chiari che lei ha detto, e poi lascio perché siamo già molto in ritardo, che lei ha detto, attenzione, Chiari non è una cosa semplice, Chiari è nella maggior parte dei casi associato ad altre patologie, Chiari è solamente in alcuni casi il Chiari standard che siamo abituati a conoscere. La maggior parte delle malformazioni di Chiari sono semplici, le associazioni con il disordine di tessuto connettivo, probabilmente nella parte generale, anche qui in Italia, è intorno al 5-8%. L'associazione con il midollo ancorato è un numero che non possiamo dare, probabilmente è single digit, probabilmente è qualcosa come 5% o qualcosa del genere. Il problema è che la chirurgia per Chiari e cavità sangomirica è una chirurgia relativamente semplice. Per esempio ci sono delle patologie che sono molto più complicate dal punto di vista del management. Avere a che fare con aneurismi, avere a che fare con certi tumori dell'area del cervello è enormemente più difficile da un punto di vista tecnico. Qui il problema non è quello di avere dei dottori con abilità eccezionali che siano capaci a farlo. L'unica cosa è che avere dei dottori con un'esperienza incrementale tale che possono fare la stessa operazione o la stessa classe di operazione giorno dopo giorno con un numero molto limitato di complicazioni perché la chirurgia per sé, ogni neurochirurgo in Italia potrebbe farlo. Le uniche due cose che sono importanti sono ridurre l'incidenza di complicazioni così la chirurgia diventa più rutinaria e numero due avere nel proprio momentario le abilità tecniche e l'esperienza di avere a che fare con casi difficili come negli ultimi casi che avevo presentato prima, l'ultimo caso che ho presentato, che ovviamente sono rari, sono più rari ma se uno comincia a fare l'operazione sbagliata come l'inizio poi uno va giù in una spirale e non lo controlla più. Perfettamente d'accordo. Questo comunque significa, abbiamo discusso tante volte con i medici, abbiamo discusso tante volte con i migliori neurochirurghi che hanno fatto questo ragionamento. Un aneurisma, un tumore al cervello è molto più complesso ed ha più soddisfazione che non operare di chiari o operare di silingomelia che poi non ho ancora capito se uno opera di silingomelia o no. Però non dimentichiamo una cosa, che chi soffre di chiari è una persona che può avere di fronte a sé una vita fattibile, una vita accettabile, una vita dove lei può continuare a fare il suo lavoro, può continuare a fare la sua attività, avere i suoi rapporti con gli altri in un modo accettabile, ma può anche, se si sbaglia, può anche avere una vita che è rovinata. La donna che è continuata a vedere sullo schermo è mia moglie, doveva essere qui oggi, ma è riuscita a venire comunque. E se è vero che il chiari è una patologia che da un punto di vista chirurgico può essere affrontata dai neurochirurghi che fanno appunto queste operazioni così complesse, è altrettanto vero che si possono creare, questo l'ha detto lei, si possono creare dei problemi perché non tutti siamo uguali, perché ci sono, quando uno opera, si trova in una situazione che magari non ha mai affrontato, non saranno molti casi, però dico alcuna cosa, che nelle operazioni e negli interventi di chiari, e qui parlo da paziente, e parlo da persona quindi che sta dalla parte del paziente, nell'operazione di chiari e nell'operazione di silingomelia, sarà l'85% di miglioramento se è un caso sì semplice, però ci sono molti più casi in cui ci sono dei problemi, e non sto parlando, i bambini è perfettamente d'accordo, c'è la possibilità di avere una crescita che rimette a posto quelli che erano dei difetti che corretti all'inizio possono essere superati, però è altrettanto vero che non dimentichiamo che nel tempo i problemi che un chiari ha, anche se è operato, e anche se l'operazione è andata ragionevolmente bene, può ritornare ad avere. Noi dobbiamo arrivare, dobbiamo spingere, dobbiamo fare in modo che ci siano dei centri, con dei medici, con dei chirurghi, che più modestamente forse, lei non è sicuramente una persona modesta, ma più modestamente di quelli che si vanno a vantare di aver fatto i grandi interventi al cervello di operazione di tumore, eccetera, eccetera, siano però dei chirurghi che affrontano con serenità e affrontano con capacità quelli che sono gli interventi dovuti a un chiari, semplice o meno semplice, dando la fiducia nel paziente di avere di fronte a sé una vita che sarà una vita buona. Non dimentichiamo, tra l'altro, una cosa, che è vero che i pazienti di chiari sono dei pazienti rompiballe. Lo capisco benissimo, ho una moglie chiari, siringomielica, eccetera, come lei c'è la moglie qui o la moglie là, credo che sia lì, lo sono anche quelli che vivono con chiari, perché chiari è una brutta bestia, la siringomielia, ripeto, ancora di più, e bisogna quindi fare in modo che anche questi interventi, interventi, magari limitati, magari non estremi, magari senza la resezione delle tonsille, ma fatti, cioè, meno complessi, però vengano fatti bene e vengano fatti in modo che un paziente abbia la speranza e comprovi la situazione, comprovi che sono andate positivamente questi interventi. Io ieri le ho detto una cosa, io mi sono fatto operare di cataratta. La cataratta può essere fatta da tutti. Il megachirurgo ottico, quando sente parlare di cataratta, dice che, beh, la sciocchezza è una cosa lì, ci vuole, basta fare il tagliettino. Bene, io sono andato non dal megachirurgo, avrei potuto andare perché come mutua mi avrebbero pagato tutto, ma sono andato da un bravissimo chirurgo che ne fa circa 10 alla settimana. 12 minuti era fatto l'intervento, il giorno dopo guidavo la macchina e tornerei ancora da questo. Allora io sono convinto che queste, anche per questi interventi, che pure sono più semplici, ripeto, sono perfettamente d'accordo con lei, bisogna andare da chi le sa fare. E quando il paziente dichiare, saprà che da quella parte, e magari anche supportato dall'associazione che conosce più casi e può dire che ci sono, con quel neurochirurgo, ci sono stati più casi positivi, dicevo, anche supportato dall'associazione, vada un neurochirurgo, che questi interventi ne ha fatti tanti e che ha avuto risultati positivi, vedrà che sarà meno preoccupato, prenderà meno cimbalta, prenderà meno pillole, che altrimenti fa prendere, prende lui e fa prendere anche a chi lo segue, io per esempio. Adesso però vorrei fare una cosa, lei è qui a Torino, abbiamo pensato che lei si ricorda Torino che ci sono già due ore? Pagamente, sì. Mi ricordavo più piccoli. No, ad oggi li facciamo così noi. Grazie. Grazie.